Marco Pecorari, 5 minuti hai giocato a Ostia la terza di campionato, poi più nulla, adesso domenica potrebbe toccare di nuovo a te, insomma ti aspettavi di giocare così poco quest'anno? Da Ostia ad Ostia direi, sì ecco io sono partito quest'anno con l'intenzione di soprattutto mettere a disposizione la mia esperienza a ragazzi più giovani, la coppia centrale dell'Arezzo è sotto gli occhi di tutti, i pernazzacanti stanno facendo un grandissimo campionato, quindi io spero soprattutto di dare il mio contributo domenica se il mister sceglierà di mettermi in campo e soprattutto di dare dei consigli giusti a questi due giocatori, per migliorarsi ancora di più. C'è anche un po' di emozione in te nel tornare in campo, in una partita tra l'altro anche molto delicata, perché l'Arezzo come tutte le volte poi è condannato a vincere. Beh ecco l'emozione per la partita no, direi di no, però ecco sto cercando la giusta concentrazione, l'adrenalina della partita, comunque è tanto che mi manca, però ecco ho l'esperienza necessaria per riuscire ad affrontare questa partita nel migliore dei modi. Certo, bisognerà che il mister decida di mettermi in campo, perché comunque i centrali sono quattro, uno è squalificato e Di Erna giocherà senz'altro, quindi ecco dovrà il mister fare le sue scelte. Sicuramente sia io che De Martino saremo comunque pronti nel caso della chiamata. Alla luce di quello che si è visto domenica, non ti è venuto qualche rimpianto in più per questi sette punti di svantaggio che separano l'Arezzo dalla Pistoiese? Ecco si parla di rimpianti, io rimpianti non ne ho e non ne voglio soprattutto avere a fine campionato, noi dobbiamo cercare di portare a casa più punti possibili, perché avere il rimpianto di non essere riusciti a guadagnare dei punti sulla Pistoiese quando loro faranno dei passi falsi sarebbe veramente da scemi, ecco lo dico. E quindi sicuramente dobbiamo affrontare tutte le partite nel modo giusto e non avere assolutamente rimpianti da qui alla fine del campionato. Due motivi per cui bisogna crederci in questa rimonta? Bisogna crederci perché abbiamo visto che comunque anche la Pistoiese ha dei limiti, certo ha sette punti più di noi però può avere dei limiti, speriamo di avere tolto qualche certezza a loro, domenica hanno una partita delicata e quindi sono tutti motivi che ci impongono il non mollare. E secondo, come ho detto prima, la cosa peggiore sarebbe avere il rimpianto di non avere dato il massimo quando loro faranno dei passi falsi, quindi questo penso non debba assolutamente succedere. Chiedo un'ultima cosa anche legata alla tua esperienza da allenatore con i bambini del Villaggio Amaranto, come sta andando da questo punto di vista nelle vesti nuove di tecnico e il tuo futuro per l'anno prossimo quale sarà? Ecco, l'esperienza lì è molto positiva perché anche grazie agli altri allenatori mi stanno dando parecchi consigli e i ragazzi vedo comunque che ti seguono, pendono dalle tue labbra praticamente perché sono ragazzi giovani, ragazzi piccoli che si approcciano ora al mondo del calcio e vedi miglioramenti veramente da allenamento e da allenamento. Per il mio futuro voglio finire quest'anno nel migliore dei modi possibilmente e poi avrò un confronto sia con l'Arezzo e parlerò anche con la mia famiglia e poi in base a questo deciderò.